La musica del video fine delle trasmissioni era quella che diffondeva il canale della radiotelevisione italiana tutte le notti prima di spegnere il segnale. Sapevamo bene che il giorno successivo avrebbero ripreso la programmazione. Programmazione, operazione, attività, risultato di programmare. Grazie ai vostri graditi commenti ma soprattutto grazie agli inetti e maldestri commentatori del regime è un vero piacere offrirvi quanto segue. Nell'intervista in lingua inglese la meditazione è la via per l'illuminazione di cui trovate il link nella descrizione del video a Paluri Gopala Krishnamurti quando gli viene chiesto se vale la pena seguire, andare dagli uomini santi o maestri afferma «Non voglio andare da nessuno perché non voglio niente, da nessuno. Se c'è qualche uomo santo non mi interessa, non è nel mio interesse per quanto riguarda la nozione dello spirito che sono. Non sono interessato ad essere liberato da nessuno riguardo al mio spirito». Quello a cui sono interessati loro è una specie di droga per farvi dormire. Voglio dirvi che se state guardando siete svegli, mentre loro non vogliono che vi risvegliate, vogliono farvi dormire. Tutte queste tecniche di meditazione, le tecniche dello yoga, le tecniche della respirazione e chissà quante altre tecniche esistono nel mondo, servono solo per addormentarvi. Perché non volete restare svegli? Siete già svegli. Pertanto l'intera idea di risvegliarvi è semplicemente ridicola, folle, idiota, ma tutti cascano su questo e pagano per tutte queste cose cercando di svegliarsi. In realtà non fanno altro che cadere nel sonno, perché questo risveglio è qualcosa che non vogliamo. Le persone sono bloccate nel sonno dei propri valori e nello stile di vita ricevuto attraverso il lavaggio di cervello, dall'educazione col quale ci hanno nutrito per secoli. Tutto ciò che abbiamo imparato è dall'esterno, e dall'esterno hanno fatto solo in modo di affamarci, tanto da essere interessati solo alla religione. Cos'è quello che non trovate nelle vostre Bibbie? Cos'è che non trovate nei vostri libri per bambini? Parlare sempre del passato, perché non avete un futuro. Così cercate altre strade che non contemplano Cristo o la Chiesa. Chiunque parli di rivivere il passato, di tornare indietro nella memoria, è perché non offre nulla di nuovo. È già morto esattamente perché non ha nulla di nuovo da offrire. In pratica nel video dice che tutti i maestri, gli uomini santi, le pratiche spirituali servono solo a farvi dormire. Il video è decisamente interessante ed ho voluto introdurre le affermazioni di Christa Morty perché le dichiarazioni religiose e le dottrine ci hanno condotto ad adottare un sistema di credenze che ha provocato la nostra perdita di contatto con ciò che è reale, storicamente e spiritualmente. Religion e dottrine sono una programmazione che disconnette dalla realtà. Tutti siamo cresciuti dentro un sistema di credo. Ripeto spesso che credere è nemico di conoscere, ma tutti noi abbiamo sempre accettato, digerito e assimilato i credo senza mai verificare se questi credo sono veri, sono reali. Nessuno si è mai posto alcuna domanda ed abbiamo accettato tutto come realtà perché ce lo hanno iniettato nelle menti fin da piccini, ma questo non significa sia verità. Quando si crede che qualcuno ha risuscitato qualcun altro che era morto o che quel qualcuno ha preso due pesci, cinque pagnotte ed ha sfamato cinquemila persone significa che sono state infrante le leggi naturali o le leggi di Dio se si preferisce, come camminare sull'acqua. Se prendiamo qualsiasi manuale di psico-diagnostica, troveremo che se qualcuno crede in qualcosa che non rientra nel contesto dei fatti e della realtà oggettiva, significa che ha dei disordini mentali. Riassunto. Se da adulto qualcuno crede in Babbo Natale, qualcosa è andato storto perché non rientra nei fatti e nella realtà. La religione e le dottrine fanno questo. Fanno credere alle persone ciò che non rientra nella realtà dei fatti, nella verità. Ma risvegliatelli, liberatevi dai device, dai social e forse vi risvegliate.